Ogni momento che va, affiora sempre di più, nella coscienza la verità. Si sente sempre più forte, bussa tutte le porte, sconfiggerà la morte, la sorte d'ogni uomo cambierà. E la volontà è l'evoluzione della vibrazione cosmica, atomi che vibrano sempre più intensamente. Mossi da un'energia che ha mantenuto fino ad oggi tutto in equilibrio. Nell'universo non siamo soli, non lo possiamo pretendere. Abbiamo ancora nei nostri cuori tante energie da comprendere, proviamo a chiederci solo un po' perché. Questo pianeta ci lascia vivere e finalmente scopriremo che il motivo c'è. Siamo la generazione con più possibilità, tablet e televisione. Navichiamo in internet, e su tre telefoni, messaggini con whatsapp. La voce della coscienza l'ascolta soltanto, chi ha tanto sofferto, è solo i tre quarti dell'umanità. C'è chi gestisce il potere, chi possiede il denaro, poi chi dà dell'avaro. Se non vuoi comprare i suoi prodotti derivati dal petrolio, la frutta che per sbaglio è diventata un po' anche carne. La carne che si vende dentro la televisione, la prostituzione segna il sinistone. Con qualche milione ti puoi fare un flore, per avere un po' di organi da trappiantare. Così potrai fare quello che ti pare, dovrai solo stare attento a non pensare. Siamo la generazione con più possibilità, la voce della coscienza. Dobbiamo ascoltarla, non possiamo evitarla, sta parlando dal tempo, sta dicendo al mondo la verità. Ehi, 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 ehi. Grazie a tutti.